ecco a voi il mega haul di eco verde qui al pacchettino stirato fuori tutto fa tutto il bel video prodotto per prodotto però mi è finito la memoria siccome riprendo col telefono siamo limitati e comunque ordine di 155 euro approssimativo in contrassegno da eco verde appunto sono tutti 90 per cento regalini ho preso anche le 5 di queste buste qui in potone per metterci regali con sempre le mie prof comunque ho preso le appunto le borse che costano 2,99 all'una poi ho preso burts bis mini collection che è quello lì piccolino che sono tre cosine dentro carine carine questo si può anche separare quello che c'è dentro comunque salve youtube ciao mi sono esaurita oggi con tutte le distrazioni che ho fatto il telefono che si è spento immaginate che ho fatto due video poi ho dovuto cancellarli sai che ce li faccio vedere così da fuori perché uno per uno tirarli fuori ci ho messo tanto no comunque burts bis che costa 8,99 queste belline vedete se li potete dividere i prodotti che sono dentro darlo insomma regalarlo così non c'è bisogno di impacchettamento basta un dico la pellicola di trasparente per regali troppo bellino poi il dr brones questo l'ho preso per me che avevo già preso sempre in questa variante piccola quello lì con tetri il detersivo prima quello prenderò grande sicuramente 3,59 poi il tea natura olio al calendro per mia nipotino 100 grammi quello lì pagato 6,49 poi farfalla lavandino questi per me sono due oli di lavandino essenziali che io uso perché mi rilassa tanto lo metto nel diffusore poi abbiamo olio viso corpo cadì quello piccolino alla rosa il regalo comunque questi qui sono tutti i regali questi cosi che i piccolini sono per me e quali sono i campioncini che mi hanno dato e il buono sconto di zalando poi la vera orange feeling crema mani in confezione organza e questa qui molto carina la confezione c'è già appunto il regalo pronto 2,99 poi la vera winter glory confezione regalo sei di questi qui sono per le mie pro anche per dei parenti che crema olio corpo e il bagno schiuma entrambi da 150 ml e questi lo pagate 9 euro l'uno sicché 53 euro 94 tutti il set da uomo man la vera sensitive vedete c'è tutto c'è la crema lo shampoo dolce al balsamo aftershave calmante la schiuma da barba e la crema idratante piccolina sono tutti quelli belli belli poi la vera orange feeling confezione natale arancia e questa qui che doccia schiuma più la cremina vedete in busta dietro vuole luce in questa se vai tipo lui che è natalizio te lo porti a presto e bellissimo costa 3,99 nemmeno tanto poi la vera style che era gel che per me bravo gel nella vera avevo già preso presentato ve l'ho fatto vedere altre volte costa 7,89 poi ho preso mattina gabbard i pedi lui viene presi 2,1 per me uno per mia socia da questa è la variante prova che costa ogni ore 89 luna non vedo la di provarlo carinissimo poi sapore naturale olio e cocco olivo e calendula ne presi 3 alpe di lui ve l'ho detto quanto costa 3 di questa quanti sempre per i nipoti bambini sotto due anni e per rossori insomma queste cose qua indicatissima la calendula che costano 2,59 l'uno poi ho preso costa da dove vera sempre per i bimbetti questo costa tutti per nipoti e 2,49 poi ho preso la lozione lavante e shampoo di calendula questo è per me ho lasciato di là perché c'ho una leggera dermatite in testa vediamo se funziona risolviamo il casino poi lo shampoo costa 5,99 non è nemmeno tanto costa quanto il balsamo invernale alla calendula che ho preso sempre per me per vedere un po che altro lo metto in borsa questo perché è 30 ml leggerino e vediamo un po se in giro magari c'è la pelle secca sul viso sulle mani quello che lo usi poi ho preso la martina che bar calendula sempre l'ho presa per mia nipote questa qui era va beh impacchiettata bene io l'ho levata per farvela vedere la versione travel size di 15 ml 3,99 il cellulare è che deve avervi fatto vedere tutto con 154 euro e 18 e niente spero che si veda qualcosa questo telefonino perché io non ho mai fatto il video dal telefonino la prima volta ciao un bacio grande a tutti ci vediamo ci sentiamo al prossimo video e state attente perché su instagram ci sarà il giveaway dei pennelli e mi raccomando ci saranno delle sorprese a dicembre comunque metterò il video su youtube quando sarà di voi così sapete di andare su instagram ciao ci vediamo alla prossima ciao 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 ciao